A due giorni dall'avvio del ritiro precampionato, il Teramo deve ancora sistemare qualche tassello e nelle prossime ore è previsto un vertice di mercato per valutare analiticamente quelle che sono le situazioni ancora in sospeso. Ad esempio quelle riguardanti Kaidi e Amadio. Il difensore ha ammesso che dovrà parlare del suo futuro direttamente con Campitelli. E dal colloquio potrebbe uscire la soluzione definitiva, ma il fatto che Kaidi debba incontrare il presidente Biancoroso dimostra già che non c'è ancora certezza rispetto alla sua permanenza. Discorso simile, ma in questo caso non è ancora previsto alcun colloquio per Stefano Amadio. Il neodirettore sportivo del Racing Aprilia, Alessandro Battisti, lo riabbraccierebbe volentieri dopo averlo avuto a Chieti, ma i laziali sono in Serie D. E non è dato sapere quanto un giocatore di 29 anni sia già disposto a lasciare il professionismo dopo aver toccato, seppur per qualche mese, la Serie B con il Latina non più tardi di due stagioni fa. Il Teramo in ogni caso sta stringendo per le alternative Persi e Ranieri, il primo dell'Avezzano e il secondo dell'Atalanta. Chiaramente se Amadio dovesse rimanere, come molti si augurano, allora di questi giocatori dovrebbe arrivarne solo uno per fare l'alternativa. Ma non sono solo queste le trattative biancorosse, sono attesi ora infatti i comunicati che ufficializzeranno gli arrivi di Gomis tra i pali e di Alessandro Celli in difesa. Una rivoluzione in piena regola, insomma, considerando che anche Giacomo Tulli è sul piede di partenza e l'area appena fermata con la San Benedettese. Probabile la conferma di Sales, ma il ricambio quasi integrale dell'organico è stata una delle richieste del tecnico Giovanni Zichella, che ha preteso che venissero cambiati molti elementi della passata stagione. Dalla società, intanto, filtra ottimismo per la vicenda Fidi di Ussioni, che sta creando più di qualche imbarazzo da altri sodalizi della terza serie. Nel frattempo si avvicina il momento dei primi allenamenti, stavolta tutti al Bonolis, impianto che quest'anno dovrebbe vedere la co-gestione della società biancorossa. Ma quello che interessa i tifosi adesso è la competitività della squadra. E per il momento il diavolo sembra ancora un'incognita. Poche risorse, molte scommesse, tutto improntato alla spending review. Ma potrebbe non essere un male, dopo tre stagioni di spese folli, senza uno straccio di risultato, magari ci si affida alla scaramanzia per cambiare le sorti del campionato.